Buonasera a tutti ragazzi, oggi si torniamo alla chiesa di San Nicolò, a Cessina di Lanzano. Abbiamo un concerto di quattro campane, adesso ascolteremo il suonare per lì San Nicolò, in frattempo lo faccio vedere, questo è il campanone, questa è la menzana, la sonata menzana, la sonata menzana piccola codicella, adesso ascolteremo il battere sul campanone e poi la melodia ave Maria di Urde, quindi a presto dai dold campanaro virotto e buon ascolto a tutti, ciao! Buonasera a tutti 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 perchè ripostate da ditta avete ficcate campani e per far una comprate al centro se ne vogliono 5 campani perchè te sono pochissime ragazzi quindi è stata bellissima e far vedere il treno della chiesa allora questa è il portale della chiesa questa è la crosse lo sono in cesare e la crosse lassù quindi è stata bella questa melodia e vi saluto e ciao